Buonasera a tutti e grazie per essere qui presenti a questa conferenza stampa. Io vorrei iniziare da un anno fa, dall'ultima conferenza stampa che abbiamo fatto qui, nella stessa location. L'ultima conferenza stampa, un anno fa, io avevo iniziato degli impegni, mi ero impegnato su una serie di attività da fare, ma la più grande attività che mi ero impegnato era proprio di intraprendere la luce che ci portava all'obiettivo della famosa Oasi Felice a Castellammare. Questo è stato il primo obiettivo che è stato mantenuto e oggi siamo qua a festeggiarlo. Il secondo obiettivo è un obiettivo che io ero molto personale, però visto che ci troviamo pubblicamente, lo voglio estendere anche alla città e anche a voi qui presenti. L'altro propulsore che mi ha spinto a questa lotta affinché arrivasse a questo obiettivo è stato un fatto più morale mio, impegno morale nei confronti anche dell'altro socio, perché io, l'altro socio mio fratello, qui presente, perché lui preso un po' dalla prova calcistica, molto passionale dal calcio, preso, diciamo, un uomo dal suo DNA, un po' più di me, diciamo che quando è entrato in questa, lui tra le due anni fa, quante entrate ha preso un bel macino, anche lui, sotto il profilo anche di un po' di superficialità, che quando si compra una squadra, rispetto a quando si compra un'impresa, i tempi sono diversi, la cosa è veloce e quindi lui sapeva di questo macino, però giustamente si è trovato a liberare a uno, prendendosi anche lui, e tutto questo ha partecipato a non fallimento già all'epoca dell'ambientale. E questo mi onora ancora di più, avere arrivato a questo obiettivo oggi, che ha colmato tutto il passato. Quindi, per quanto riguarda oggi noi abbiamo, ci sono vittorie che si prendono sul campo, vittorie che ti fanno entusiasmare, ti rendono felice, ti fanno grittare, quando si convolta, e ci sono vittorie di extracampo, dove ti inorgogliscono, ti aprono le porte, ti aprono un'autostrada, ti aprono la luce, e quindi ti aprono un futuro, un futuro pieno di soddisfazione, un futuro pieno di soddisfazione. E noi oggi siamo felici, siamo orgogliosi, siamo alle due stalle. Questa è una vittoria che è a livello di uno scudetto, è una vittoria vocale, che rimarrà nella storia recente della Juve Stadia, perché questa vittoria abbatte un po' tutti questi malcontenti di tante persone che hanno un po' in parte tirato, in parte non prenduto, diciamo, a noi, in questa avventura. Oggi, noi siamo il fiore al rinfello del calcio italiano, oggi siamo un modello, oggi siamo, oggi siamo, oggi siamo, oggi siamo orgogliosi di questo modello, perché noi dobbiamo lavorare su questo modello, perché questa sarà la partenza di arrivare e intraprendere la famosa ora si finisce. Tutto questo ha dato anche una dignità ai diffusi stabilizi, ha dato una dignità ai collaboratori della Juve Stadia, al personale e a tutti quelli che stanno e amano la Juve Stadia. Perché quando la Juve Stadia è odiata sia in termini sia localmente, c'è una Francia abbastanza grossa che la odio e la dovesse accreditino. Io l'ho visto sono da quattro anni in questo settore e ho visto che c'è proprio una cattiveria contro la Juve Stadia e oggi sia a carattere locale che sia a carattere nazionale, nazionale che i saluti di tre vieni della politica che è molto in carcere e stabilisi e quindi stanno al sud che lavorano male i debiti, le cose, poi dopo tutto esce a gallo, questo e poi l'altro. Oggi tutto questo è finito. abbiamo la dignità di rappresentare una squadra seria, un modello di squadra invidiabile. Chiaramente la famiglia d'Agella ha bisogno di rispetto, vuole rispetto perché in molte occasioni questo non è successo. mi riferisco a interviste, a commenti, interventi, cioè addirittura tutti quanti la società l'Agella 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 fallisce, scompare dal mercato, scompare dalla categoria. Voglio fare allora presente che la U.S. Dabia in diversi momenti sottoscritto non ha fatto fallire. Il primo momento è stato quando io sono entrato in società. Mi ricordo dopo la partita di Redi sono entrata in società e ho sposato questo progetto sapendo la debitoria chiaramente. Ho sposato questo progetto come rischio di impresa mi sono buttato in questo progetto chiaramente non sapendo che la squadra andava lì e non sapendo che la squadra potesse anche le procedure. Tutto questo prima c'è stato il primo passaggio che ha fatto la differenza e ha salvato anche quest'anno perché le condizioni non erano quelle di buone. Il secondo passaggio è stato l'ingresso di mio fratello che si è lasciati una squadra con una pensione pagata solo di 3,50 e alla fine la squadra ne valeva più di un milione valeva forse 3 milioni e c'era un incremento di oltre 900.000 euro su una seconda pensione con gli evolumenti carciatori che è in generale e poi con il suo ingresso è stata salvata la squadra e alla fine è stato il secondo ramo di non valla famiglia e il terzo è stato questa con la falcita che abbiamo azzerato e punendoci usare del termine sia la verda ai vecchi al culo e alla società in bilancio abbiamo adotto questo macigno che era lontano per noi che non ci faceva la ola per me senza faccia senza programmazione senza futuro in modo molto superficiale e alla fine oggi questo macigno si è azzerato che si è ridotto a un vicino e quindi si può più serenamente programmare un futuro diciamo una strada piena di soddisfazione andando camminando step by step lavorando giornate per giornate partita per partita diciamo ci deve essere una rinascita diciamo tipo un 4.0 diciamo 4 anni di calcio e 0 di partenza mettiamola così per arrivare al grande sogno che noi ci vogliamo però se non si parte da questo il sogno non si avverrà mai questo è un buono specie di partenza per quanto riguarda noi abbiamo risanato con molta ripeto con molta abbiamo io e lui abbiamo addirittura non dormire la notte negli ultimi 10 giorni di questo periodo attravo i termini che si annullavano noi siamo stati io sottoscritto non dormire ripeto molte notti perché questa cosa mi sembra un po' strano che non si usciva in esito negativo o così perché se usciva un po' più tardi ci complicava letteralmente la vita anche perché abbiamo ancora oggi una corsa a 300 per sistemare il 16 maggio e il 22 per l'iscrizione una serie di addendimenti di quando al di là di questa grande vittoria per questo io voglio dire che il 10 maggio il tribunale dell'attività ha positivamente accettato la nostra richiesta di strutturazione del debito andando in camera di commercio che è già uscito in camera di commercio e la gestione ha chiesto anche le motivazioni per aspettare entro i 15 giorni l'opposizione se ci sarà e noi i sottoscritti i presetti ci siamo impegnati a regolarizzare quello che è scritto nella transazione con mezzi propri con mezzi 10 in un momento di grande crisi in un momento di grande veramente forse più crisi non so se impariamo a parlare dalla pandemia perché ancora oggi con l'avvento della guerra non abbiamo crisi aziendali in materia che non si trovano posti a riduzione di partone pagate e noi ci siamo impegnati e onoriamo questo ulteriore sacrificio per questo il rispetto del sacrificio deve essere alla base di meriti prima il rispetto del sacrificio e poi i meriti se ci sono o non ci sono quello è quello che noi vogliamo da questa piazza perché non siamo ormai diventati figli da questa piazza noi abbiamo sposato il sopravvizio con i nostri sacrifici taglioni per le nostre famiglie e le nostre indese abbiamo scelto questa cultura e per onorare e quindi questa situazione ci siamo impegnati fino alla fine il risultato è arrivato voglio fare i ringraziamenti indistintamente a tutti i fornitoriali ripeto questa situazione dell'erario quando si è parlato di concordato il concordato non è totale non è un concordato che tu mi dici questa impresa ha mille lire in tasca con queste mille lire che forse avrà tutti il concordato è solo il liberario escluso l'Inps escluso l'Inaid escluso i fornitori quindi vengono pagati centocento i fornitori vengono pagati centocento è solo l'agenzia dell'entrata che contiene IRPEC PILOR IVA IRPEC tutta una massa di cose non pagate fiscate e il concordato è solo il liberario solo dell'agenzia di entrata perché dico questo perché c'è stato un'internativa e dico li ringrazio tutti indistintamente perché c'è stato più di uno ma prevalentemente uno soprattutto che e lì è scattato anche ho visto anche intravedere tanto odio verso questa perché noi i fornitori probabilmente lavoriamo molto con il genere del posto lavoriamo molto con i peritori locali e ho visto che secondo me c'è stato anche una rondagine su questa opposizione perché soprattutto che ci hanno portato a maggio per vedere questa cosa perché se era prima se tu ricapegni l'avvocato in i contesti voglio scritto che io devo avere questo voglio scritto che devo essere il giudice mi dice guarda e questo va a parte non stiamo parlando di uno straccio con il derate non stiamo parlando di uno straccio con i fornitori che i fornitori vengono a cento c'è anzi se non passa questo non avrai nemmeno quell'altro l'insistenza è stata forte ci ha fatto in due udienze ci può stare in udienza mi fa non mi sono scorciato quindi lo vedo e passiamo alla prossima poterà anche salvarci dubbi di penalizzazione però io voglio sempre essere equilibrato e diciamo accogliente anche con i fornitori della tua statua sono i fornitori di posto sono i fornitori sicuramente di tutto rispetto e il mio sogno è sempre di mettere quando più insieme i fornitori locali e diciamo soprattutto in questi momenti che noi è una cosa quando siamo entrati è una cosa siamo ora le risorse non sono più quelle di prima chiaramente il risultato di pensare all'impegno morale con quello che si è impegnato o di pensare tante altre cose quindi molte cose non sono state fatte non le sono state portate a terra quindi benvengono di nuovo i fornitori locali che vogliono far crescere a crescere questo progetto che ripeto benvengono i mezzi freschi i fornitori seri soprattutto locali che vogliono investire nella tua strada questa è una piazza che si potrà distinguere il tifo il tifo è meraviglioso una piazza calorosa è una piazza sotto il tifo è invidabile a tutto io voglio ringraziare tutti i vifosi soprattutto ringrazio la Puglia Sud perché la Puglia Sud è stata impeccabile come al solito e grazie anche a loro che ci hanno buttato in questa proporzione di andare avanti gli attratti finalmente eravano così fragili che non si sapeva nemmeno dove si poteva andare dopo di che devo dire che loro hanno fatto gli omni di mandata e che al ritorno di tutte le partite sono stati presenti prendendosi anche tante sconfitte quest'anno e hanno onorato sempre i volumi di questa squadra sono stati fedeli a questi volumi sono stati fedeli a questa squadra e noi insieme a loro saremo sempre in questa squadra voglio ringraziare tutto lo staff che ci è stato vicino in questo anno in particolare voglio ringraziare anche il mister Walter Novellino che ha fatto un campionato eccellente ha raggiunto i suoi 51 punti da playoff insieme all'altro allenatore voglio ringraziare sottili 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 e quindi voglio anche qui veramente poi le carte ci hanno dato ragione con questa vittoria contro la Lega perché noi siamo consapevoli che abbiamo vinto anche con questi due punti perché quando qualcuno diceva non avete fatto il ricorso ma i ricorsi si fanno quando ci sono delle motivazioni se non abbiamo delle obligazioni non puoi mai sulla basca di la pressione fare il ricorso ci siamo appellati al blocco di playoff non sono stati bloccati quindi si doveva ripartire con il ricorso aspettare 30 giorni 30 giorni e poi finiva alla fine non risolvi niente solo una forma di disarcimento dall'aniversità dell'aniversità che non lo so se la spuntavamo e tutto questo voglio dire che è stato fatto un lavoro e greggio quest'anno noi dobbiamo guardare al futuro dobbiamo averci forza tempo della situazione che c'è in atto dobbiamo avere diciamo dobbiamo riferendono su questo modello noi dobbiamo essere da oggi in poi dobbiamo essere invidiati dalle piazze non più calpestati ma invidiati perché questo impresione è forte rimarrà forte con la nostra progettualità perché è una progettualità di rinnovamento di restyling di immagine si deve lavorare di nuovo sul marketing sulla comunicazione sull'incentivazione delle persone allo stadio le famiglie i bambini le donne devono venire allo stadio si deve divertire per essere un stadio qualificato tutto questo noi non abbiamo avuto aiuto un po' da nessuno per non dire i fornitori che ci hanno trattato per non dire il comune che ha preso la sommatoria negli ultimi dieci anni non pagati a questa società per non dire le cariche che hanno vinto allo stadio non sono state fatte quindi siamo stati un po' soli in questa avventura io spero che con questa vittoria si rinasce tutti quanti si accomunano un progetto serio trasparente concreto condivisibile e tutti quanti lavoriamo per i colori giallo blu perché questi ci devono dare forza e ci devono dare diciamo devono portare a a nuove a nuovi fronti a nuove cose cercare qui cercando da innovare la nostra visione io vedo sempre un qualcosa io non mi piace la tecnologia l'innovazione basta cambiare pure una serie per me innovazione basta cambiare una curva e mettere un cerchio di un numero invece un altro per me è innovazione tutto questo deve avvenire non deve essere acqua stagnata ci vuole un rinnovamento però se non lavoriamo tutti quanti insieme da oggi in poi la stampa i tifosi la città la politica diciamo le imprese locali non andiamo da nessuna parte perché guardate questo è un matrimonio immenso la squadra è piena di cultura ha una storia centennate di cultura e non la dobbiamo difendere però non la possiamo difendere solo noi che quando dopo un anno e mezzo di pandemia e c'è una grinta per vedere la partita tu ti trovi un depo con l'avellino con 1200 spettatori mi sembra un po' che corsa con la idea di crescita e di portare avanti un progetto di crescita di un patrimonio che è il patrimonio della stessa città quindi se il patrimonio della stessa città è la serie C i ricari sono pari allo zero è tutto in capo alla impresa che è socio di quel patrimonio che è il patrimonio che è il patrimonio della città ma la società è una impresa e tu vedi quello scollegamento i servizi si iniziano un po' a sveglolare allora quando c'è la collettività che dice questo è un patrimonio abbiamo chiarito che è un patrimonio unico e raro che per farlo diventare questo patrimonio ci vuole la storia e la storia lo diceva di quest'anno che è stato fatto storia di traccio negli anni in passato eccellenti tutto questo rimane a questo proprio questo lo dobbiamo conservare e dobbiamo lavorare con la stessa barca il progetto deve essere un progetto trasparente di persone serie che pagano tutti pagano i contributi pagano gli emormenti pagano i calciatori pagano i proditori e tutti insieme vogliono creare un'idea diversa un progetto più legato al mondo europeo e non radicato dalla provincia nei comuni del territorio quindi tutto questo fa parte di una comunanza di la loro emormenti speriamo che tutti quanti hanno capito la nostra diciamo intenzione la nostra intenzione quella di portare avanti questo progetto ripeto proprio serio e condiviso voglio ringraziare anche soprattutto il settore giovanile che ha fatto un eccellente campionato ancora sabato domenica si giocherà con il sud di Tirol a Bolzano e quindi ringrazio fortemente sia al dipettore Mainolfi della di giovani e sia a Roberto Mondio della primavera perché loro una parte è arrivata in finale l'altra parte è arrivata in finale quando dice si è arrivata in finale quando è arrivata in finale l'Under King si sta giocando ancora la sua finale quindi devo dire che hanno fatto uno straordinario lavoro e mi rinnovi ringraziamento a tutti tutti quanti ma gli allenatori allo staff tutti che hanno lavorato con una serietà con un percapitato e infine sono diciamo a disposizione per qualsiasi domanda adesso ascoltiamo il socio e il mio fratello allora mi associo diciamo il discorso di mio fratello buonasera a tutti innanzitutto buonasera vi ringrazio che siete qua ad ascoltarci dopo una vittoria schiacciante 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 che stiamo lavorando veramente notte e giorno e devo dire che abbiamo anche un po' trascurato la squadra che l'abbiamo seguita in momenti diciamo del club della partita perché questa era la partita più importante da seguire e ringrazio principalmente mio fratello che ha avuto questo questo sentore di genialità su questa legge che nessuna nessuna persona conosceva qualche mese fa diciamo ha avuto questa invenzione ne abbiamo discorso se eravamo decisi ad affrontare pure quello che diciamo andremo ad affrontare e stiamo sereni almeno che adesso la palla passa solo a noi e giustamente siamo più convinti di prima di continuare a fare bene cioè questa io ringrazio poi che abbiamo trovato diciamo dei professionisti seri che hanno affrontato la cosa studiando bene le leggi ringrazio il tribunale di Torre Annunziata che ha fatto sì che ci ha permesso di avere questo sogno diciamo e di continuare questo sodalizio a Castellammare di Stabbia perché non è facile far capire far intendere le carte con anche gli disturbi esterni come lui ha detto e io non metto bocca su questo perché poi alla fine come ha iniziato lui dicendo c'è una parte di città che vuole bene a questo sodalizio ma c'è un'altra parte di città che secondo me forse sparavano il fuoco penso due giorni fa se la sentenza era il contrario cioè io sto qua da due anni ho messo le mie risorse certamente come dice lui io sono diciamo un ultra penso molto alla squadra però lui mi ha fatto capire che esiste una cioè esisteva una debitoria perché poi alla fine quando io ho preso la squadra sì sono venuto a conoscenza però è stata talmente infertita cioè 48 ore la squadra non riusciva a mettere cioè la partita era il tridun se non vado errato doveva scendere in campo non c'era la fiduzione per far scendere la squadra in campo per giocare alla partita di Coppa Italia io mi sono provocato in 24 ore di trovare questa di fare questa benedetta fiduzione e far scendere in campo la squadra perciò poi sono venuti tutti questi conti fuori vabbè lasciamo perdere non ormai diciamo il grosso è fatto il grosso è fatto io ringrazio tutti apertamente a tutto lo staff della Juve Staff e a voi giornalisti e a tutte le persone diciamo che anche quelli che hanno criticato anche quelli che non hanno creduto in noi diciamo nella nostra proprietà diciamo nella nostra famiglia che ce l'hanno detto di tutti i colori come disse lui una volta in una mia conferenza stampa disse i leoni di tastiera e adesso i leoni di tastiera non so che cosa scriveranno verso la famiglia Langella non lo so forse scriveranno che daremo altri 40 anni di storia alla società di West Ham altri 10 anni di storia 20 anni di storia non lo so non lo so che daremo ancora alla Juve Staff non parlo di lui ma in complesso perché quello che abbiamo quello che abbiamo che siamo riusciti ad ottenere è una vittoria inaspettata e schiacciante perché non è è una legge molto complessa la parola è facile dire concordato ma non è concordato è una ristrutturazione che è totalmente diversa la cosa punte squadre probabilmente noi siamo la prima penso che abbiamo ottenuto questa vittoria perché anche le altre penso che non l'hanno ottenuto oppure stanno ancora un caso di diritto proprio società sportiva in tutte le tappi si stanno chiamando i presidenti i procuratori che vogliono aderire a questa 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 l'orientamento si è aperto ci vogliono ci vuole un grande lavoro di animale infatti mi sono dimenticato di ringraziare tutti i consulenti che hanno portato avanti questa mi sono ringraziati mi sono ringraziati non c'è un nome ma non lo so penso che a parte noi diciamo l'amministratore e noi diciamo di proprietari abbiamo fatto diverse riunioni perché comunque ci sono dei cavilli burocratici che vanno rispettati e vanno visti e farglieli capire anche a un giudice perché fondamentalmente è una legge nuova che è uscita diciamo il tribunale perciò lo ringrazio è stato molto bravo a leggersi le carte a vedere tutti i cavilli possibili e prendere una decisione penso importante importante per il futuro di un sodalizio anche se diciamo ci siamo esposti diciamo noi personalmente e penso che questa è stata una manforte da parte nostra che ha fatto sì che questa ristrutturazione passasse io ringrazio il professor Sicca l'avvocato Sorrentino e il dottor Foglia Manzillo se non dimentico qualcun altro io non lo so poi il dottore Ariberti il dottore di Contillo è uno staff di oltre dieci persone che diciamo io non posso aiutare chi ha fatto i conti e diciamo comunque come ha detto mio fratello questa è una vittoria più di uno scudetto forse più di una champion perché è una realtà che oggi continuerà a fare farcio continuerà che nel vero senso della parola a fare faccio perché anche se uno andava in B ma comunque non ha servito le condizioni per andare avanti perché non scelicca la passata di Dottore vabbè non ci soffermiamo sulle cifre perché ormai no la debitoria se non passava la passata cioè se tu andavi in B e facevavi e automaticamente non trovava questa norma diciamo con la debitoria così alta nemmeno lo scelicco se tu non la ne avrai ridotta e non la che ho quella di Dottore era un po' di confusione comunque allora tornando a noi allora io ormai non mi di lungo più di tanto perché se no qua ci mettiamo tre ore a fare questa conferenza e tutti quanti noi abbiamo altre cose da fare niente l'unica cosa che io chiedo da ora in avanti a tutti a chi è possibile di stare vicino alla società di stare vicino diciamo non si può vedere dopo la pandemia giustamente come ha detto lui ma non è una questione di soldi o di altro è una questione di amore perché io non posso pensare che se uno ama una squadra la ama se uno non la ama non la ama perché non è lavoro non si dà a convenienza o si ama una cosa o non si ama una cosa io non posso pensare che con lui ha detto il termine di con l'avellino che era la prima partita questa e quella abbiamo fatto diciamo 1200 persone però con i monopoli c'erano 150 paganti 150 paganti a parte quei ragazzi che sia dentro che fuori cioè erano sempre presenti nelle loro difficoltà non entriamo nei meriti e tutto il resto ma loro sono stati sempre presenti sempre vicini alla squadra quando la squadra sul campo non è che ha fatto quello che doveva fare non ha brillato perché siamo andati anche al trasferto a prenderci tre gol da squadrette che secondo me non so nemmeno dove stavano io mi sono fatto una domanda ma dobbiamo andare a Picerno ma dove è Picerno io questa è la domanda che ho fatto non sapevo nemmeno a Monderosi non sapevo che era Viterbo cioè squadre che abbiamo fatto brutte figure diciamo vabbè ma ora non entriamo nel tecnico perché oggi è una rivoluzione oggi è una rivoluzione io voglio che il pubblico le famiglie tutte l'indispensabile diano amore a questa squadra di calcio questa squadra di calcio non amore a noi a noi non esiste noi facciamo il nostro lavoro ormai noi ci siamo integrati in questa parte e con l'ultimo sforzo c'è ormai è arrivata addosso la nostra pende la nuvestabia non esiste perché questa diciamo ristrutturazione costa costa economicamente è un sacrificio che in questo momento ma io non credo io ci credo che comunque si sarebbero presi questi impegni perché fondamentalmente oggi con questa guerra che è peggio della pandemia aziende che ormai non c'è programmazione non c'è più niente cioè si vive alla giornata sono cose sono momenti veramente tristi diciamo dell'economia nazionale penso mondiale perché poi questa guerra vedo che sta riportando in tutto e per tutto dato che noi facciamo pure un lavoro che trattiamo con il petrolio il petrolio purtroppo è l'unica cosa che è trovabile e sta a prezzi esagerati comunque oggi per me è una rinascita è una rinascita se prima c'aveva voglia di fare calcio oggi ho il doppio di fare calcio però io voglio che la gente di Castellammare non mi non abbandonano la squadra perché dire questa parola è brutto perché dopo ho fatto tutti questi sacrifici oggi è il momento di dire siamo la Juve Stabia ci abbiamo oltre cent'anni di storia oggi è vero perché oggi siamo una società modello io sfido chiunque che fra qualche mese perché è meglio che ci prendiamo questo mesetto di tempo che diventa un bambino innocente cioè appena nato la Juve Stabia rinascerà perché come ha detto lui oltre all'erario verranno sistemati anche tutti i vecchi fornitori verranno sistemati entro 120 giorni verranno sistemati tutta la territoria Invis in Aile e tutto il resto noi ci siamo sobbaccati di questo sacrificio enorme sacrificio enorme perché noi la parola fallimento non è nella nostra indole diciamo sto fatto cioè comunque lui ha detto che non ha dormito io penso che non dico che stavo in depressione e ora sono rinato ma quasi perché la settimana scorsa stavo proprio totalmente in depressione che questa notizia non arrivava né negativa né positiva perché poi uno o negativo o positivo affronta le cose cioè nella miglior maniera le cose vanno affrontate ci dovevamo inventare delle cose che metteva a rischio un repentaglio come i due punti di penalizzazione che sono arrivati perché purtroppo questo punto è una cosa che io adesso ho imparato sono giustizie parallette cioè non esiste cioè una giustizia ordinaria non è quella della FIGC perciò alla fine non so se riuscivamo a fare l'iscrizione del campionato non so anche con il piano B, C, D e tutto il resto che le persone si vengono dire questo e quell'altro non era una cosa ripresa da noi avevamo delle alternative però erano sempre sub giudice come dobbiamo dire allora io spero che questa nuova stagione che andremo ad affrontare perché adesso lo possiamo dire almeno che scompare il calcio noi saremo presenti ai nastri di partenza del prossimo campionato questo è però io dico solo a tutta l'imprenditoria a tutte le persone di Castellammare che amano questo sodalizio di stare vicino alla squadra non alla società alla squadra poi se ci vogliono stare qui noi siamo siamo ben 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 accetti a persone che credono in un progetto che adesso come disse lui qualcuno critica 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 tre anni andiamo in serie B come disse due anni fa quando io sono entrato tre anni andiamo in serie B però le persone con tutta la buona volontà guardano solo una cosa non vedono se ci sono stati due anni di pandemia che non c'era proprio niente non sapevamo nemmeno se finivamo il campionato o non lo finivamo il campionato no cioè le persone non guardano queste cose pensano solo quello è il terzo anno ma qualcuno dice quello è il terzo anno allora vuol dire che noi l'anno prossimo dobbiamo spendere 10 milioni di euro così ci ritroveremo ma è tutto può possibile quello che è può possibile quello che l'anno prossimo diciamo si fa in serie B cioè tutto è possibile però diciamo questo fatto che uno quando dice e poi succede una catastrofe non significa che non si può delineare poi sono uscite cose che io sinceramente volevo fare tre passi dietro più di una volta ho minacciato io lo dico perché oggi è la giornata è la giornata nuova come io oggi è il primo giorno che vengo di nuovo in società perché io volevo lasciare perché perché c'erano troppe cose che carte nascoste carte che non si capiva niente cioè non lo so come è stata ma io non voglio dare dei meriti a nessuno come è stata gestita questa società negli anni io non voglio io voglio prendere pure le mie colpe della mia gestione insieme a lui che sicuramente sono stati fatti degli errori anche errori anche errori tecnici anche errori perché nessuno è un mago del calcio stanno squadre che spendono mila di Dio come come l'Avellini è uscita al primo turno se mi posso permettere di nominare una squadra è uscita al primo turno di playoff e sinceramente è una delusione per i nifosi è una delusione diciamo in generale è una delusione anche per i presidenti perché alle volte sono insegnamenti che vanno presi non è che non vanno presi diciamo sono insegnamenti alle volte quando uno dice prendiamo a questo e prendiamo a quell'altro e prendiamo a quell'altro e poi ce ne andiamo a fare i play out ce ne andiamo a fare come diciamo stava capitando quest'anno perché poi fondamentalmente sfido chiunque è dire che noi avevamo una squadra scadente però alla fine stavamo là se non c'era la scuola di Messina pensi che stavamo là a lottare per la retrocessione diciamo comunque era una squadra di tutto rispetto però uno dice ma loro ci hanno promesso il quinto posto il sesto posto e noi ce l'abbiamo messa l'economia per il quinto e il sesto posto però purtroppo il campo ci ha dato torto non è che noi siamo felici che i ragazzi se ne vengono con un 3 a 0 da un'altra parte d'Italia questo è il discorso allora non mi soffermo più io ringrazio tutti e spero che avete capito il messaggio e spero che la famiglia Langella ci tiene alle due stavie l'avete capito ormai un po' tutti anche quelli che non lo volevano capire o non l'hanno capito ancora probabilmente glielo spiegherete un domani sui giornali io ringrazio ancora tutto lo staff della Juve Stav che veramente sono persone affabili e siamo contenti diciamo di avere questa struttura societaria al momento spero che crescerà sempre di più spero che con non lo so con questo avvento che io ancora non riesco a crederci sinceramente ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ringrazio tutti dal magazziniere fino a a chi ha diretto la squadra e al presidente ringrazio pure il presidente perché sarete lui l'artipice di questa legge che ci ha fatto questo un po' di massa grazie adesso ascoltiamo il vicepresidente l'ingegnere Vincenzo Vecchio buonasera a tutti mi compiace nel trovarvi di ultima qui qua e nel rivedervi dopo un po' di tempo mi sono stato proprio lontano dalla squadra non con la mente nel tanto mio potenziale ma fisicamente per motivi personali professionali che mi hanno in qualche modo fisicamente adottato ma mi ho sempre seguito sono sempre stato a fianco di miei amici l'angella e di tutto il gruppo che porta avanti questa magnifica società mi compiaccio stasera nell'essere allo stesso tavolo dei miei amici l'angella che stasera io riesco finalmente a vedere come due sciicchi come dice il presidente perché quello che non sarebbe uscito negli Emirati Arabi non sarebbe uscito da uno sciicco multimilionario era uscito ai due fratelli d'angelo a dispetto di tutto quello che i terzi delatori coloro che comunque vedevano nel loro avvento nella compagine societaria persone non adatte a gestire determinati luoghi sia sul piano manageriano che scurtino oggi i fratelli d'angelo hanno dato una risposta a tutti quanti e ci tengo a sottolineare che evidentemente il loro ruolo è stato determinante perché sono però che oltre di impegnare la faccia impegnano i propri capitali e voi sapete benissimo che soprattutto un campionato di serie C non è un campionato dove c'è da tirarsi fuori e mettersi in tasca 100 euro ma c'è stato tanto da investire capitali ma loro hanno fatto con l'handicap di avere un retaggio e una situazione che è una situazione perversa che grazie all'induzione di Andrea Andrea ma l'ha detto diciamo avallata anche dal social Giuseppe oggi ci fa sorridere e ci fa avviare verso un nuovo corso voi ricorderete che io sono stato l'organizzatore in un momento mi permette di dire drammatico ancorché lo ricordi ve lo dico con grande franchezza come uno dei momenti più stimolanti della mia vita perché diciamo associato con la mia attività professionale che ti resti è già abbastanza ricchezza si è inserita anche questa scommessa e parliamo di circa tre anni fa il presidente nel suo incipit ha detto voglio partire dalla conferenza stampa dell'anno scorso ma noi dobbiamo partire a quattro anni fa quando lui è stato coinvolto in qualche modo prima come sponsor e poi come socio immettendo capitale in questa società e proseguendo in un'attività furibonda che è quella che mi ha visto coinvolto nell'anno in cui sono stato amministratore ovvero di gestire un campionato di serie B che forse è il primo campionato nel quale oltre alle risorse proprie si hanno le risorse di lega che però venivano letteralmente fagocitate assorbite da una situazione che ai nostri occhi man mano emergeva di documentazione di debiti per il resto e quant'altro che hanno portato poi ad avere un debito esponenziale che non avrebbe consentito grazie alla intuizione dei soci e allo sforzo che è stato fatto di accedere alla ristrutturazione del debito che oggi celebriamo e festeggiamo ovviamente mi fa piacere fare un passaggio sul ruolo determinante che oltre i soci ha avuto tutto lo staff sia quello tecnico sia quello operativo che quello amministrativo perché al di là degli avvicinamenti che spesso volete anche dai media locali ma anche da quelli nazionali sono stati visti come incertezze passaggi di responsabilità che potevano manifestare incertezza da parte dei soci altro non era che diciamo lo specchio di una situazione di estrema difficile gestione che però nonostante tutto attraverso l'avvicinamento a seguire la mia amministrazione degli altri amministratori ha portato al risultato di oggi senza dimenticare ovviamente anche il ruolo determinante dei tifosi i quali mai ma dico mai ma per il proprio senza la parola hanno abbandonato la squadra non c'è stato un momento in cui la squadra si è sentita lontana dai propri difusi che sono l'anima di questo sport meraviglioso un ultimo passaggio perché sembrerebbe diciamo minimale e non lo è ma oggi la Juve Stabia in un quadro completamente rivisitato e di anno zero possiamo dire siamo partiti da quattro anni fa ma in questo momento celebriamo la ripartenza gode di un amministratore unico che oltre ad essere persona competente e anche di calcio e che non basta è un amministratore che ha avuto un ruolo ancora che in un periodo abbastanza breve dal suo insediamento determinante per portare a completamento questo leader straordinario allora qual è mi permetto di fare una breve considerazione sulle prospettive della Juve Stabia l'hanno detto i miei amici in genere la prospettiva della società la prospettiva della squadra la prospettiva della squadra è che la squadra la Juve Stabia che è una squadra centenaria che quindi ha un blasone che altre squadre non hanno deve dimostrare a tutti quanti che oltre ai propri tifosi che diceva il presidente giustamente non sono amati ma devono essere amati perché sono dei tifosi corretti sono dei tifosi che sanno stare al loro posto e che sanno di fare per la loro squadra ma dicevo deve essere una squadra che deve onorare il proprio blasone centenario anche attraverso la presenza nei consessi che contano quindi in lega in federazione dove oggi a fronte del risultato di oggi ma mi permetto di dire non solo a fronte di quello ma anche dei rapporti che sono stati intrattenuti con le massime autorità oggi gode di tantissimo rispetto che dobbiamo consolidare se non addirittura migliorare e quindi una squadra che ha consolidato che ha ristrutturato il proprio debito che ha un settore giovanile che possiamo considerare una punta di diamante è una squadra che con il 10 maggio sancisce consolida la la sua ripresa la sua ripartenza per un futuro che nel medio periodo perché non possiamo siete tutti quanti come indicati sapete benissimo che i miracoli non si fanno ma che nel medio periodo riuscirà a raggiungere i risultati che tutti quanti noi tutti nessuno escluso auspichiamo per questo abbiamo bisogno dei media e quindi del supporto e del sostegno di voi giornalisti anche nei momenti difficili perché gli errori sono sempre dietro l'angolo e nessuno di noi è perfetto e nel calcio è anche facile sbagliare abbiamo bisogno dei giornalisti abbiamo bisogno dei tifosi abbiamo bisogno della struttura abbiamo bisogno di lavorare sodo oggi si ricomincia ma siamo fiduciosi di avere delle magnifiche prospettive e il tempo ci regalerà il tempo che è impegno grazie a tutti buonasera a tutti naturalmente parlando per ultimo mi hanno fregato tutti mi hanno fregato innanzitutto mi concedete mi concedete visto che è la prima volta che ci troviamo ho il piacere di fare una conferenza stampa per la U.S.A.B.A. di ringraziare la proprietà e i fratelli Rangella che mi hanno voluto a guidare come amministratore unico la U.S.A.B.A. devo ringraziare e naturalmente anche vicepresidente ringrazio dirigenti e personale perché credetemi sono arrivato il 14 gennaio ma in questi quattro mesi oltre a trovare una professionalità veramente importante che mi ha permesso di lavorare bene quindi abbiamo lavorato subito di squadra ho trovato le persone che mi hanno facilitato l'inserimento all'interno della struttura e devo dire veramente grazie perché dove siamo arrivati è merito di tutta la squadra non di una singola persona mi associo a quello che dicevano i fratelli Rangella sui fornitori con cui naturalmente dialogo tutti i giorni che mi hanno permesso hanno creduto a quelle che sono le parole che vengono dette in questi casi perché sapete benissimo che noi abbiamo il congelamento di tutte le posizioni e quindi non è facile in questo periodo di crisi sentirsi dire devi aspettare e quindi veramente un clausolo a tutti se qualcuno pensa che questo è un punto di arrivo si sbaglia questo è un punto di partenza è un punto di partenza perché abbiamo avuto l'azzeramento colberario ma come giustamente vi ha detto il presidente abbiamo un'altra parte che dobbiamo su cui dobbiamo lavorare ed è altrettanto una parte importante su cui stiamo già lavorando e lavoreremo in maniera attiva nei prossimi mesi nel prossimo anno perché naturalmente sono somme altrettanto importanti senza scendere adesso nei numeri nello specifico questo per dire cosa? per dire che abbiamo bisogno della vicinanza di tutti abbiamo bisogno di essere di continuare ad essere sostenuti in questo percorso di crescita nell'avvicinamento alla famosissima rubo io la frase al presidente oasi felice perché solo così possiamo effettivamente arrivare a creare le condizioni per essere ancora più importanti di quello che Juve Stabbia rappresenta nel panorama calcistico italiano detto questo sicuramente nei prossimi giorni nelle prossime settimane anche se noi ne discutiamo già da tempo quotidianamente perché non siamo stati ad aspettare la sentenza vareremo un piano un piano un programma che dovremmo rispettare ma che non è un piano di un anno non ci chiedete voli pindarici non ci chiedete ci ho sentito parlare di Champions League Europa League Serie B adesso la prossima per stare nostra sarà il Manchester United no dobbiamo costruire un piano di crescita costante da una parte continuiamo ad abbattere le vittorie da altra parte cresceremo come è stato fatto bene in questa società dal settore giovanile che ha portato i suoi frutti e ci ha visto protagonisti con squadre importanti e che ci hanno permesso di scalare l'anno prossimo faremo la primavera 3 quindi siamo saliti di un gradino come giustamente ricordava il Presidente siamo arrivati alle fasi nazionali ed è importante cos'altro è importante cosa riguarderà questo progetto che hanno a proporvi a sotto diciamo a illustrarvi perché poi dobbiamo anche essere persone intelligenti chiunque voglia dare un suggerimento dare il suo contributo noi non riteniamo di essere quelli che sappiamo tutto e possiamo fare così le nostre porte sono apette l'importante che il suggerimento sia un suggerimento costruttivo sia un suggerimento per il bene della lingue stabia con l'amore per la lingue stabia mi aspetto in particolare dai famosissimi leoni da tastiera ma soprattutto da voi che ci sia una collaborazione fattiva in un processo di crescita che ci vede protagonisti già naturalmente abbiamo il nostro scopo di essere una società del sud di essere le solite persone che quindi non me lo fate dire perché sono i famosissimi stereotipi che odio di odio li combatto quotidianamente con tutti quelli con cui vado a discutere da Roma in su detto questo il progetto prevederà naturalmente è importante e avete visto che entrambi i fratelli di Langella l'hanno sottolineato il pubblico una squadra vive del suo pubblico è lo specchio Castellammare è stata sempre una piazza calorosa forte accogliente e io mi associo a ringraziamento perché veramente li ho visti sempre presenti i ragazzi della sud ma c'è bisogno che la gente di Castellammare si riunisca alla squadra anche noi dobbiamo fare il nostro valeremo tutta una serie di iniziative volte a portare ancora più gente allo stadio gli imprenditori locali c'è bisogno di io sentivo in diverse cose l'avvicinamento della Juve Stabia al territorio la Juve Stabia è scollegata dal territorio la vedo un po' una provocazione ma lavoreremo proprio perché ascoltiamo lavoreremo per avvicinare ancora di più il territorio alla Juve Stabia da Juve Stabia al territorio con iniziative con tutta una serie di progetti che metteremo in campo vareremo un piano che io amo definire l'ho cognato io ma è solo un mio in sostanza di Juve Stabia 115 perché sono 115 anni di storia e al 115 anzi un anno di storia abbiamo fatto la storia perché questa sentenza frutto dell'ingegno dell'idea pressa veramente la prima volta che qua lasciatemi togliere qualche sassolino per le scarpe perché sapete sono stato squalificato mi sono beccato due punti di penalizzazione e via dicendo avevamo ragione noi non è una scusa per non pagare era un piano vero corretto fatto come diciamo secondo tutti i crismi della legge difficilissima da interpretare e da applicare io ho visto il presidente in prima linea venire in tribunale discutere con il giudice affrontare tutte le questioni tematiche per arrivare a questo risultato siamo riusciti ad ottenerlo in tempo utile e vi lascio questa chicca ancora oggi ho discusso con Covizoc perché anche loro giustamente vi abbiamo trasmesso notificato il provvedimento perché c'è una scadenza federale tra quattro giorni le difficoltà loro di interpretare un provvedimento così complesso primo in Italia e quindi stabilire cosa è giusto e cosa non è giusto quindi vi dico il lavoro fatto è stato un lavoro in mano possiamo aver commesso anche qualche errore di comunicazione ma l'errore di comunicazione era perché noi veramente abbiamo lavorato notte e giorno per ottenere il risultato che più ci premeva iscrivere la squadra al campionato perché altrimenti qualsiasi altro sforzo sarebbe stato vano e inutile questo più o meno è quello che posso dirvi su tutto quello che tra virgolette ha riguardato questa questione che dire forza di quest'anno ovviamente io so adesso che voi siete curiosi potete fare le vostre domande giusto lo volete no? è certo cominciamo con il giro mi raccomando ho fatto prima due richieste vi prego di rispettarle cominciamo con il mattino di rispettarle ci vediamo quattro faccio tutte una domanda quella oggi allora presidente Andrea Langeves è stato un po' a tre riunioni fino a qualche giorno fa eravamo un po' come un'aufrago alla ricerca dell'isola che non c'è oggi vi sentite un po' invece come un autore con una pagina bianca una storia da scrivere allora oggi in questo momento l'emozione mi sempre prende così tanto che mi fa intimidire alla fine e non mi fa sorridere ma non la prende a setelli a 72 tetti oggi noi dobbiamo sorridere a 72 tetti perché se scalfita una cosa inimmaginabile e queste rimarranno nella storica recente della nuova staglia perché anche io ripeto fino alle ultime settimane ero diluvante e mi arrivavano messaggi di persone sconosciute sul sito non so Instagram cose che per sentito dire andava male fai viva e la scompariva dalla 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 categoria cioè sono arrivate le cose inaudite che anche io stesso mi ero quasi diciamo indebolito al pensiero che questa cosa mia di ottimismo radicale mi portava ad avere questo settore anche negativo coprendo il mio geniale della mia possibilità quindi oggi noi dobbiamo essere felici e goderci questa cosa che è una cosa unica e rara nella storia pensate che ci hanno chiamati vogliono sapere i consulenti come avete fatto il percorso ci sarà un dibattito su questa cosa proprio nel tribunale sarà un dibattito sul diritto societario sportivo perché le società come noi ce ne sono tutte tutte cioè chi più di meno ma tutte navide nella stessa parte e arrangano sempre facendo radeizi allungare ma non avendo mai un futuro perché perché poi alla fine si vedono passare la mano a altri diciamo imprenditori però quando vedi il passaggio di mano adesso non siamo uniti al cuore quando vedi il passaggio di mano allora io penso sempre a questi negli che hanno scappati di casa perché quando uno non ce la fa più diciamo di passo ne vuote a 0 euro quindi te l'ho detto io faccio a 0 euro e quindi dopo 6 mesi porti il video cioè stesso film stesso scenario stessa cosa allora bisogna prendere il toro per le corne se non prendere il toro per le corne non si sa nessuno io ero prefissato con questo impegno di portare avanti questo obiettivo e questo obiettivo non l'abbiamo risolto 100% l'abbiamo risolto al 65-70% però una bella massa di macigno di cancro addosso è stato estampato quindi noi siamo più in salute ora dopo in salute non è quello che è ci dobbiamo combattere anche come impegnarci con questa transazione perché poi c'è un impegno esterno e non arrivare all'agrenza di più però godiamoci questa giornata godiamoci questa cosa che io personalmente la vede una cosa bella per la tua statua non tanto per noi perché il soldo è bisogno di meno ma la cosa bella per la vitalità e il futuro della mia statua piena di soddisfazione e piena di emozioni poi dopo come dice l'amministratore dottor Polcino che io volevo ringraziarlo prima ma nei passaggi di tante modalità mi ha fuggito questa cosa perché lui con questo suo allievo io devo sposare il suo l'inizio che è venuto perché è stato completamente attivo in questa fase senza scoraggiarsi un minuto diciamo mantenere la calma barra dritta e andare avanti mettendo in campo tutte le esperienze vissute in precedenza e devo dire che questo è un grande sostegno questo problema Mario Presidente si percepisce ovviamente l'entusiasmo per questa diciamo sentenza favorevole ovviamente non le voglio mettere nessuno quindi non voglio dire il discorso pensiamo già l'anno prossimo ma in futuro prevede un allargamento societario o pensate di rimanere sempre voi come famiglia l'angella quindi la rivestabile dei l'angella io ho sempre detto ogni anno benvenga perché io rispetto sempre chi mette i soldi nel calcio o è alipati quel simbatico o è alto il bene il brutto il tappeto rosso a terra prego benvenga perché queste sono società a scopo di perdita a scopo di perdita e non a scopo di perdita perché voglio questo perché questo è un blasone forte e deve onorare i suoi soldi i suoi soldi devono arrivare cioè il mio sogno è l'A figura di l'A il mio sogno è l'A due anni l'A ma per fare questo oggi con queste condizioni economiche dobbiamo avere la bravura di andare passo dopo passo giornale dopo giorno dobbiamo lavorare per arrivare in quella solitità forte quindi chi può prospettare benvengano risorse ma non esterne attenzione io ho detto sempre di imprenditori seri orraglie rispettati che benvengono ad andare in partecipazione con noi ma sono mezzi per velocizzare per velocizzare il sogno perché oggi guardiamoci francamente se uno crea un progetto metto un utero ci arriva lo stesso chi si è fatto bene ci arriva perché la scienza dice questo poi è chiaro che se benvengono imprenditori seri io sono aperto Giuseppe Amato del resto del calcio buonasera e in chiave sportiva ecco giusto per capire le tempistiche le ultime scadenze menzionate in maggio dopo queste scadenze si penserà poi a individuare la figura del nuovo direttore sportivo il nuovo allenatore senza entrare in particolare la prima domanda la devi fare a lui che lui è amministratore e per le scadenze federali è lui noi già da stasera in poi già iniziamo a discutere con tre vettori sportivi forse anche quattro per arrivare al allenatore nei prossimi giorni e attraverso lui già organizzare la parte per la parte sportiva già ci siamo voi per la parte di carte è il dottor Polcino che lui si deve impegnare lui ci chiede che facciamo lui ci chiede che facciamo la parte un po' più noiosa fare le carte e diventate antipatica diciamo che spesso i polenieri non rispondono a tre ma io non sto facendo ulteriori richieste però vi raggiungo le scadenze già le conoscete penso perché ho visto che si di abbastanza la prossima scadenza è il 16 maggio dove naturalmente diciamo la sorella gemella della famosissima scadenza del 16 maggio per cui io avevo paura perché si poteva innescare la famosissima recidiva due inadempimenti nel corso dello stesso anno vi dico giusto questa chicca testimonianza che avevamo il piano B avevamo il piano C avevamo anche il piano D e posso andare avanti nel senso che manco a farlo apposta se leggete bene il regolamento cioè i due punti di penalizzazione il 16 febbraio erano sulla scorsa stagione ma questo lo dico per la sala mentre invece i due punti di penalizzazione a maggio sono sulla prossima stagione quindi non scattava la recidiva è stata un'ampia discussione fatta tra me e gli organi federali c'eravamo già preparati anche a questo perché purtroppo se non arrivava il provvedimento il provvedimento arrivava dopo il 16 maggio noi eravamo costretti a doversi prendere altri due punti di penalizzazione ma oggi vi abbiamo dimostrato che dicevano la verità poi permettetemi una precisazione il presidente nel video serie A serie B serie A è una battuta sogni oltre sogno però se non lo facciamo un progetto arrivato possiamo andare a un progetto sempre punto chiaramente il progetto parte dalla salvezza e salvezza se noi investiamo e per chi mica vogliamo retrocedere ma si chiunque vuole svelte neanche una sua cara nessuno vuole vettere è normale ognuno di noi vuole vincere io non voglio non voglio vendere con il mio figlio ma è detto questa è una grande testimonianza perché solo la testimonianza di oggi può dare la risposta di domanda non c'è domanda più quindi se uno mette i soldi oggi se uno non li vuole mettere oggi significa devo fare una cosa di basso basso profilo basso profilo mi poterà anche retrocedere però sovrappintiare invece questa è la testimonianza che ti dà anche la risposta di un figlio mondo campagna del pallone molto piacere alla luce di questo risultato storico quanto è determinato il club a riprendere il discorso per arrivare quanto più in alto è possibile e soprattutto quanto è determinato a farlo facendo crescere i giovani sulla pazzarica di quanto si sta facendo grazie allora i giovani per la nostra progettualità i giovani sono importanti è una progettualità i giovani sono importanti per chi abbiamo visto anche il presidente con il decreto con il decreto crescita con il fatto di esclusione che due due volte conseguentemente l'italia non ha i campionati perché si importa sempre roba stranieri si importa roba sempre risparmiando le tasse 50% di contributi tutto questo l'ha ridotto proprio per puntare sui giovani se la nazionale punta sui giovani il filone è quello dove dobbiamo puntare su leve nuove leve se fossero del territorio ancora meglio ci mettono la faccia la passione il sudore della maglia perché sono del territorio quindi il nostro progetto è più giovani meno prasonati perché ripeto il prasonato che arriva qua in due state che fino a qualche anno fa come dicevo l'anno scorso arriva in hamburger 5 stigli questo è stato in hamburger 5 stigli dove si porta la moglie i cani il gatto la compagna i figli cioè ma e poi dopo un anno si vende con gli otto gol di sette gol del campionato e poi dopo un anno se ne va e poi gli dimenti e poi gli scassi gli scogli gli scogli gli scogli gli scogli gli scogli cioè questa è una cosa che bisogna un po' accantonarla fare un progetto di giocatori che amano sposano la maglia sudano la maglia con la testa e con le gambe devono pedalare cioè si devono prendere anche i meriti di onore e non onore perché purtroppo ma quando arriva il signor X che si vende la distinta e il distinto nove gol sette gol costo solo le tariffe però però non è mai meglio quindi il progetto deve portare un po' di giovani un mix ma soprattutto ma anche qualche valorizzato ma un valorizzato non dico come questo che è arrivato abbiamo visto stupa che troppo non è nostro e tu hai portato uno stupa in alto al piacere della salvatoria formalizzare dei contratti può dire percentualmente quella vendita mettere un po' di giovani mettere un po' di persone brasonate cioè fare un progetto di taghi che ti porta ad avere un patrimonio aziendale il nostro obiettivo è avere la US patrimonio di quei giocatori non il chiavare di persone Davide Soccano sto piaciando mi ha dovuto che è stata parlata più spesso questa domanda ma è molto attuale per adesso dunque in virtù di quanto accaduto cosa e se cambia qualcosa nei programmi nei progetti della prossima stagione anche in virtù di quelle che sono appunto le diciamo le entrate per agevolarne e parlo in primis come parlava il socio Andrea Langella in primis invitare sempre più gente allo stadio e quindi la venta di miglietti la notizione dei prezzi questo è un'idea che noi abbiamo lanciato alla persona che dovrebbe mettere in piedi questa organizzazione una organizzazione societaria non solo di squadra perché attorno alla squadra se lo spogliatore è sereno che è una società a sedia chi organizza persone allo stadio ospitali c'è un avvicinamento all'inglese all'artigiano all'artigiano professionista a notario c'è un avvicinamento un po' alla città e tutto questo è fatto di una programmazione che si è organizzato in più di organizzare un'app uno la può scaricare per prenotarsi questo la newsletter prenderci tutto di maggio sui giocatori magari alle indiense magari a perché devono essere partecipi partecipi della loro squadra perché la squadra è della città noi la conduciamo abbiamo questa congestione di condura la squadra ma il titolo è della città quindi un avvicinamento a queste a queste persone che sono state scollettate negli ultimi quattro anni ma anche in Serebine è proprio povere cioè alla fine io il mio obiettivo è anche questo portare il centro allo stadio come è questo è lo diremo lo diremo una programmazione sempre mi ha dato l'onore allora faccio all'amministratore che parlava di un progetto nel tempo ovviamente il progetto nel tempo che nel calcio che un'azienda particolare immagino anche spiegare a un giudice che il calcio non è un'azienda come le altre è stato difficile poi deve sposarsi però per forza con dei risultati quindi la domanda ne la faccio arrivare un po' dibattuta i tre quattro direttori sportivi passano prima da lei per il discorso o prima dai presidenti allora guardi la cosa bella che mi sta veramente coinvolgendo sul progetto il progetto di quest'abbia è la discussione anche serrata anche diciamo il mio di noi può avere delle idee ma devo fare un clausolo ai fratelli Langella perché abbiamo avuto tanti confronti veramente in questo periodo abbiamo avuto modo di pianificare e di discutere su tutto quindi qualsiasi decisione naturalmente la proprietà rispetto a me proprietà quindi è sempre l'ultima parola però stiamo discutendo di tutto stiamo verificando tutte quelle che possono essere le scelte più giuste per la società anche perché un errore è un errore e commettere un errore costa e quindi il risparmio ha anche non commettere errori sul progetto che vi ho accennato non può essere un progetto a lunga agitata e vi spero perché progettare nel calcio tre anni e chi vi dice questa cosa li sta prendendo in giro progettare nel calcio due anni più uno è qualcosa di incredibile e realizzabile perché purtroppo le cose nel calcio sono molto volatili questo non vuol dire che tra tre anni i fratelli di Largella non ci saranno più parlo di progetto inteso come investimento finanziario investimento entrata operazione entrata operazione uscita operazione come dice il presidente sul territorio sono cose che si possono fare nel breve e lungo tempo io vi faccio fare una riflessione e vi rinnovo l'invito che vi ho fatto prima 15 giorni fa eravamo tra virgolette lasciatemi passare questo termine posti all'agonia per i due punti di penalizzazione oggi siamo tra virgolette ci sono gli imprenditori più bravi e l'amministratore più bravo del mondo dello sport italiano vedete quanto è volatile il calcio allora quello che vi chiedo è che rispetto a un progetto che andremo a delineare non bisogna tirare subito le conclusioni ma bisogna arrivare alla fine del progetto bisogna avere pazienza in tutte le cose e guardate la forza di essere arrivati a quest'ADR questa cosa di strutturazione è stata anche la pazienza che hanno avuto guardate avere questa moda di bidone per gli imprenditori specchiati che amministrano le loro aziende in modo corretto e serio non hanno tra virgolette non hanno il problema di cercare la telefonata e il fornitore non mai pagato perché sono puntuali nei loro pagamenti non è una cosa positiva anzi è una cosa che sicuramente ha rovinato parecchio il figlio da entrambi i fratelli d'angeli e questo ne sono testimoni prima persona quindi qui serve l'aiuto anche vostro nel far capire che non vince solo la squadra in campo se non hai la struttura se non hai l'armonia di spogliatori se non hai le risposte pronte se non hai la gestione della comunicazione se non hai il potenziamento del marketing potrei andare potrei parlare per un'ora su questo argomento è la cosa che più mi tocca la vicina poi c'è anche l'aspetto giocatore c'è anche l'aspetto tecnico che diciamo racchiude la sintesi di tutti i tre punti la domenica perché purtroppo se non arrivano quelli per la piazza abbiamo lavorato male però dobbiamo lavorare prima sulla società sulle teste pensanti che sono il direttore sportivo che sono anche il mister e per arrivare ai risultati sul campo penso di essere stato aggiungo però una parola perché abbiamo avuto delle critiche ma critiche normali diciamo il fatto che bruciamo allenatori bruciamo direttori sportivi questo e quell'altro purtroppo ci sarà sempre finché ci sarò io ci sarà sempre se non funziona io sono il tipo inutile continuare è meglio rubare perché se voi pensate che mandare via un direttore sportivo o un allenatore è da mazzi perché vuol dire aprire di nuovo il cassetto e prendere altri soldi per far felice non lo so quei tifosi che ci credono a una società questa è la cosa però esisterà perché purtroppo io sono così purtroppo lui almeno e non ci troviamo solo in questo non ci troviamo col dal buono che l'altra quarta era per l'ultras come domanda con quello che avete detto il fatto di cambiare spesso eccetera eccetera si è avuto credo una dimostrazione nella seconda parte del campionato diciamo il novellino bis che ha dimostrato di essere l'allenatore che probabilmente era stato preso insomma la persona esperta che ha saputo anche dare un'anima ma anche capire forse meglio nel momento in cui non è stato costretto a scelta di valorizzazione anche se l'ha fatto comunque è riuscito a mettere meglio la squadra in campo e la vedete di tutto è ipotizzabile so che è presto di parlare di calcio però ci sta insomma proseguire con una persona che abbia quel tipo di esperienza ma questa è una domanda che diciamo come ha detto mio fratello io non posso rispondere perché no non posso rispondere non perché perché adesso è arrivata una grandissima notizia da stasera in poi come ha detto lui godiamoci questa notizia godiamoci questa notizia e iniziamo a pensare il futuro calcistico perciò faremo delle riflessioni con il nuovo direttore sportivo che verrà che guarderà pure tutta la nostra struttura calcistica perché come ben sapete stanno diversi calciatori ancora sotto contratto diciamo già abbiamo la squadra diciamo già pronta senza fare nessun investimento per l'anno prossimo però sicuramente verrà ritoccata in tutti i reparti perché diciamo hanno dimostrato fiducia gli abbiamo dato fiducia però diciamo qualcosa verrà fatto verrà fatto non so in che entità è importante come diceva l'amministratore trovare le teste pensanti calcistiche che ci dovranno consigliare e ci dovranno dire come diciamo se ci deve stare una rifondazione della squadra ci sarà una rifondazione di tutti questo è un punto zero si riparte da qua come tutto da costruire ok con una mente un pochettino un po' più libera questo è il discorso sto sbagliato o non sto sbagliato sto sbagliato cercheremo di fare quanto meno errori possibili però non è detto che non ne faremo questo è è quello che è con il vicepresidente cioè con il socio Langella Giuseppe vorrei fare una domanda allora si è capito che lei è l'ultras della famiglia e sicuramente questo suo messaggio è stato già da Monito futuro allenatore direttore sportivo che sarà sicuramente già sulla graticola quando verrà qui a Cassinapare perché saprà che appena sbaglierà noi ci abbiamo il compromesso ci abbiamo questo compromesso questa cosa qua no io volevo chiedere avete parlato già di 3-4 nomi direttori sportivi ovviamente c'è 3-4 direttori sportivi non voglio sapere i nomi perché non me le dirà mai diciamo sicuramente anche sotto tortura questo è chiaro però diciamo è che il profilo volevo capire un po' saranno direttori sportivi già fermati direttori sportivi giovani perché la storia della rivestà abbia insegnato che in alcune volte direttori sportivi affermati hanno fatto bene altre volte hanno fatto bene i giovani stessa cosa anche per gli allenatori quindi volevo capire un po' meno l'idea per la nostra idea per la nostra idea prima di tutto il direttore che noi parleremo 1,2,3,4,10 quelle che siano perché noi siamo la giure stabia quando lo chiamiamo tutti noi abbiamo qualche rifiuto fortunatamente almeno quando non stanno sotto contratto devono sposare il nostro progetto quello che noi vogliamo per la piazza di Castellammare se loro sono in grado perciò sono in grado perché se dicono sì poi succede che non avviene queste cose poi scatto con Giuseppe la pannaia non va bene allora loro è una cosa buona sì sì è una garanzia allora i colloqui che noi fanno con queste persone quando noi parleremo con questi direttori sportivi no certamente dovranno sposare e dirci per loro come la pensano come oh e date che oggi non partiamo da zero ci sono delle cose da sistemare con la squadra di calcio se sono in grado in grado di sistemare è molto importante questo è la prima cosa per il futuro della stagione quello è il discorso perché non quest'anno cerchiamo speriamo di partire il video giusto speriamo speriamo giuseppe quella cosa almeno la cui lì anticipato vuole sarà italiano vincenzo italiano no vincenzo italiano vincenzo italiano vincenzo italiano vincenzo italiano vincenzo italiano vincenzo italiano andiamo verso le due ore di conferenza stiamo puntando ultime domande ultime domande iniziamo da Giuseppe Amato sì visto che oggi si chiude anche un capitolo che è quello del debito delle tante incertezze per chiudere questo capitolo e mettere un puntino sulla prima del vostro ingresso in società ma di alcuni la situazione del bidonia poi reale era quella che conoscevate essendo in che misura avete scoperto dopo e in che entità parte del bid hai fatto una domanda a lui e a me a lui e a me sono un po' spetta si sente rispondere è una domanda della società questa è una domanda molto stimolante che i 72 tempi proprio ci spegniamo è proprio la è senza lenti è una conferenza a parte è una conferenza a parte però visto che noi ci troviamo nell'occasione e abbiamo parlato anche della sua superficialità in tante cose come la creatura e la frissura come superficialità per vedere il senso che bisogna pure un po' giustamente mantenere un certo diciamo impegno per la piazza perché ogni tre partiti da una mia è un campionato e se ne vuole cambiare la scuola non ne vanno lo farei però troppo ci sono due step per cambiare la scuola io voglio dire il punto no io voglio dire il punto io voglio dire il punto questa è la parte che voglio dire il punto per quanto riguarda questa cosa questa è una domanda questa è una domanda che la ronoscere è molto intenso perché molti di loro hanno detto tra cui anche qualche giornalista che la debitoria è stra-aumentata nella nostra gestione allora questa persona che ha detto questo o queste persone che hanno detto questo o diciamo sanno le cose le cose vere come stanno o le sanno e le dicono diversamente perché io quando sono entrato in società in questa società io sapevo della debitoria in società non sai dove è quella che prendi è un fatto normale e questa società aveva una debitoria di tutto rispetto già ufficializzata ma siccome durante la categoria in serie C del 2018 e del 2019 noi per profilo siamo andati in B dopo una settimana che siamo andati in B è uscita fuori c'era un provvedimento dell'agenzia dell'entrata nel 2017 che pianificava questa debitoria in 10 anni questa debitoria in 10 anni dopo che siamo andati in B torna a sottolineare che era da la PEC dell'agenzia dell'entrata visto che siete andati in B visto che siete stati promessi vi dovete impegnare per quello che è stato scritto nel retenzo per che siete andati in B dovete dare altra il doppio di quello che era già programmato diciamo questo è stato un fulmine al Cesarino perché è stato un po' per la mia superficialità perché ripeto come la sua quando è entrata ho visto tutte le carte bene perché un po' il fatto di essere ingannato perché una cosa si dicevano guarda che c'è pure questo che si fa in B perché non si aspettava da qui si fa in B vissi molti di soldi l'agenzia era da quanto di soldi ma era tutti quanti nel test così c'era scritto questo è stato nascosto dalla parte del editrice giustamente con la superficialità non siamo andati a leggere bene il test e si è portato avanti questo scontro e questo scontro è stato diciamo ambaturato alla fine questa debitoria che ha quasi raddoppiato cioè si è trovata una debitoria con la sorpresa durante la promozione B che ha raddoppiato parecchi lo sapevano pagando le realizzazioni alle scadenze cioè alle nuove alle scadenze noi abbiamo pagato ognuna di quelle scadenze perché altrimenti avevamo tutte le penalità una volta arrivati in serie che si è ricostante devastate poi c'è stato la pandemia c'è stata la cristallizzazione di più dopo dopo la pandemia c'è stato di nuovo questo bombone che si doveva ringanare ma quindi due anni di pandemia se hai perso nello stato per un anno e mezzo poi si riparte poi c'è stato la ricercituzione che non si aspettavano perché la traduzione è stata un'altra mazzata per questo si è stata tutta stasomla di queste cose che hanno portato una debitoria esponenziale non si poteva più andare avanti c'è un obiettivo che era questo che è stato fatto oggi perché è un obiettivo che ci porta a una svolta radicale una svolta totale allora non l'abbiamo fatti non i debiti i debiti c'erano e in parte un po' di debiti diciamo sono stati cristallizzati cioè questo di penalizzazione che aspettavano pagare la nostra gestione e la federazione la procura federale diceva tu ci devi pagare l'insene di febbraio del 2021 e la legge italiana il tribunale dice che tu al 30 giugno mi è stato stato detto non toccare niente che domani non basta diciamo quindi si è permesso pagare a quello e non a quell'altro che è questa del cassetto noi non se pagavamo la federazione non ci chiamavamo il fruso questo debito funzionale erano tutti i debiti relativi alla verità gestione comunque la vecchia proprietà starà sparando il fuoco perché comunque pensi che abbia una grande notizia di questa cosa principalmente lui dovrebbe sparare il fuoco per l'ultima domanda una domanda che rivolgo principalmente al socio Giuseppe Rangella al netto di un gruppo squadra che c'è da ritoccato ma c'è e dei casting imminenti ecco richiedo ci sono dei valori tecnici tattici e temperamentali da cui vorrebbe partire da cui partirebbe volentieri nella prossima stagione grazie sicuramente sicuramente è la prima cosa perché quello che ho notato quest'anno a parte i ragazzi che diciamo ce l'hanno messa tutta sul campo ho visto che specialmente in trasferta è venuta a mancare la personalità della squadra è la prima cosa che noi vorremmo dare è la prima domanda che io farò al nuovo direttore sportivo che non voglio calciatori che giustamente pensano solo al contratto e se viene pagato lo stipendio oppure se vengono pagati i contributi a paura che non prendi la pensione come è capitato quest'anno che qualcuno abbia fatto questa rivista quando hanno saputo il sentore che la società non continuava diciamo queste cose non devono capitare più noi cercheremo di fare una squadra insieme al direttore quello che noi chiederemo a una squadra come ha detto mio fratello io li chiamo ragazzi perché alla fine pure un calciatore di 30 anni 31 anni comunque è un ragazzo non è una persona diciamo adulta adulta a tutti gli effetti questo è il discorso chiederemo gente che hanno fame gente che devono sudare la maglia e gente che credono nel nostro progetto perché il nostro progetto vado un po' a lungo e non avere più cambiamento cioè fare una squadra che oggi possiamo ragionare in questo fare una squadra che sarà un frutto che ogni anno verranno messi due o tre inesti non verrà rivoluzionata più una squadra di proprietà non è che oggi non sia di proprietà una squadra che deve durare come ha detto l'amministratore in un progetto senza fare pure i quintalici due più fare due più uno poi è sempre il campo a decidere perché l'esperienza ci insegna si può vincere con tot e si può vincere con tot questa è la cosa ma primaria cosa avere calciatori che tengono alla maglia e tengono alla società e noi cercheremo di farli stare bene questo è quello che io chiederò allo nuovo direttore sportivo grazie ultima domanda abbiamo aperto anche chiudiamo un po' sì sì però il presidente Andrea è una cosa molto importante ribadendo la squadra perché noi la gestiamo in questo momento della città faccio una similitudine quando le quest'abbiano nel 2011 in serie qui c'era una grossa crisi la fungantieri economica e sociale oggi la città senza entrare nel discorso politico vive una grossa crisi un momento anche di passaggio importante può questo risultato questo entusiasmo e comunque si è visto anche dei famosi gli uomini i terzi erano si è visti in questi giorni essere una spinta anche per la città di rilancio di ripartire anche con quelli che sono secondo me anche dei valori che state cercando di portare in un mondo come quello del faccio dove forse davvero siete una vespa bianca potremmo dire deve essere deve essere la spinta per riprenderci diciamo e sensibilizzare tutta la città in questo momento perché vedo che la città è uno stato anche difficile a livello politico vedo delle aziende ancora chiuse vedo delle imprese ancora bellissime che hanno fatto la storia vedo lo stato che ancora ha ridotto male vedo tante cose e noi dobbiamo partire proprio dal nostro patrimonio quello che noi siamo riusciti a conservare che è la Juve Stabia un patrimonio culturale di sport di centenario oltracentenario che questo patrimonio deve intorno a questo patrimonio si deve diciamo un po' stringersi tutti e devono capire che si può fare cioè nella vita si può fare quindi se si può fare che abbiamo fatto questo diciamo io lo chiamo binacolo qualcuno dice però oggi i tribunali sapivano che non si vengono mai alla fine oggi alla fine non si vede speso però quando tu vedi questo miracolo intorno a questo miracolo deve essere un senso di responsabilità cioè noi abbiamo ridato dignità a tutti non solo alla libertà a tutti perché oggi parlandoci una parola da me ciò di matteggiare cioè siamo una società seria cioè crim ci va bene facciamo il sorriso per non perciò siamo una società seria sotto l'intimo di vista questa felicità ci deve portare ci ha aperto un portone enorme dove noi dobbiamo essere prudenti i voli pintarci non si devono fare perché io sono il primo a contrastare poi con lui i voli pintarci non si devono fare perché se noi vogliamo fare quello per tornare a questo io non lo io non c'è io non c'è perché in questa situazione che si è creata di stress in questi anni e in questa agitazione per quattro anni non esiste mai più quindi abbiamo il risultato conserviamolo e abbiamo il rispetto di questo risultato rispettiamo questo risultato e conserviamolo bene per programmare un futuro serio e concreto ultimissima ma io posso non parlare mi permetti sempre se qualcuno non funziona quello è chiaro quello è chiaro ma mi piace molto aperto su certe cose ma che il primo sono io sui pulsini io poi mi riconosco io no poi è altro che quando si riconosce perché le cose sono fatte male sono fatte male quindi le cose sono fatte male sono fatte male ma si riconosce loro da tutti io volevo fare invece la domanda a dottor Polcino quindi ne ho entrato ecco da poco in questa famiglia come ha detto lei è passato un po' dalla depressione in un certo senso del fatto di aver avuto la squalifica in maniera ingiusta a questa esaltazione che adesso è il miglior dirigente d'Italia quindi grande soddisfazione la si legge sicuramente negli occhi ecco però alla Ivestab c'è un altro aspetto importante ecco il discorso del collegamento con la città che diciamo anche qualche volta abbiamo ripetuto anche noi diciamo nelle nostre trasmissioni è proprio anche questo fatto di non avere un punto diciamo di merchandising di legare il marchio alla città nel senso si è aperto quel negozio purtroppo lo store è andato via non ha affatto diciamo affari non so per quale motivo questo diciamo visto che è esperto di marketing perché in effetti la storia sua insegna anche questo non solo di contabilità fra virgolette spicciola se vogliamo dire ma in mente ecco qualcosa di aumentare il merchandising della Ivestabia proprio per far girare anche il marchio nel circondario non solo a Castanamare perché io vedo in realtà come Empoli per dire che sono piccole cittadine molto più piccole di Castanamare però che fanno calcio ad altissimo livello anche perché attraggono le città vicine allora ti rispondo prima quando volevo anticipare il Presidente che ha risposto per il Giuseppe che voleva precisare alcune cose alla domanda stavo dicendo questo prima che ho detto che dobbiamo cambiare nel cambiare dobbiamo darci delle regole quindi se ci diamo delle regole e vogliamo essere una società di serie A a domanda non si risponde se abbiamo detto che vareremo un piano e lo presenteremo fra 15 giorni fra 30 giorni fra 40 giorni fra 40 giorni conoscerete il piano per dire 40 giorni ciò significa che una domanda ti dovrei rispondere ma non lo faccio ti dovrei rispondere a breve conoscerete tutto ma anche perché queste domande le dobbiamo fare fra un anno perché questo è punto zero vedete che cose si è costruito lavorando prima c'erano uno store c'erano uno store c'erano questi wire pensiamo un store pensiamo a questi oggi fra un anno si può dire ma perché quel store è chiuso ma perché invece non è più solo ma perché la generale è successo oggi si può far crescere questa per certa qualità che diciamo prende tanti aspetti non solo la squadra non solo la squadra deve prendere perché le squadre importanti partono prima dalla società e poi arrivano alla squadra qua si fanno sempre due distinzioni con l'incursività del ballone che deve andare non si pensa alla società perché poi dopo si va a cadere in altre cose che non riflettono con l'ambiente totale perché la società viene per prima l'organizzazione le persone di licenziale tutto e poi si arriva piano piano a tutto diciamo non è una critica era un fatto analizzando la storia della iniziativa non è una cosa io vedo altre realtà piccole che hanno forse c'è stato un successo ma c'è stato un successo perché avere uno store con una squadra intervitatissima con una squadra che camminava con il freno a mano tirare non si poteva fare programmazione prospettive cose che non si sa doveva andare a finire doveva andare a parare cioè è di tutto il tipo che uscirò lente da tutte le parti Mario di concreto se vi posso è normale che anche perché la mia storia dice questo visto che mi fregge di avere 30 anni di marketing a livello nazionale e internazionale spero di poter dotare la Juve Stabia di quello che può essere un marketing a livello superiore e ci stiamo già lavorando ci stiamo già lavorando non da un giorno ci stiamo lavorando da tanto il presidente si è lasciato tra virgolette scappare il discorso di avere un'app io potrei parlare per ore di quelle che sono le idee quello che posso dirvi è che a breve non passerà tanto tempo il tempo di scusate il gioco di parole inserire in un vero e proprio progetto avete visto che non ho mai parlato sto parlando oggi per la prima volta è bene che noi anche in una piazza delicata come Castellammare prima organizziamo e facciamo le cose e poi le diciamo ma di progetti ne abbiamo tantissimi speriamo di essere l'invidia anche su questo oltre all'adietro di essere anche su questo l'invidia di tante altre società e sicuramente lo store è una di quelle cose che stiamo valutando e analizzando grazie a tutti grazie a tutti